Personal Room è un'idea che avevamo in mente già da un po' di tempo e ne abbiamo parlato con Cesar che come sempre ha dimostrato un grande entusiasmo e un grande dinamismo nei confronti di queste iniziative. Non è il classico momento che ci si può aspettare per chi si occupa e per chi lavora nel mondo della cucina perché a differenza di altri momenti non ci siamo concentrati sul food ma sulle persone. In Personal Room abbiamo voluto in un certo senso ricreare quei momenti di raccolta, di intimità in cui nascono le storie nelle cucine. I protagonisti delle storie sono le persone ed è questo sostanzialmente che noi volevamo portare in questo spazio. Un fattore che fa molto distinguere l'essere umano è la sua creatività e la creatività deve essere letta, apprezzata, deve essere capita. Questi momenti di condivisione, Personal Room cerca di condividere l'esperienza, la creatività di queste persone che sono in una creatività molto eclettica. Sono ospiti che raccontano durante mezz'ora, 45 minuti, il tempo che serve, un'esperienza creativa legata a questa area della casa così intima. Non un chef, non un proiettista, non per forza un elemento così sempre concentrato in queste figure, ma qualcos'altro, qualcos'altro che va d'altrove per poter farci capire e condividere e apprezzare questi momenti così anche emotivi. Grazie. 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 Grazie.